Salmo 42, versetto 8 Il Signore di giorno concedeva la Sua grazia e io la notte innalzavo cantici per Lui come preghiera al Dio che mi dà vita. È una grazia del Signore anche oggi che non siamo stati distrutti. È una grazia del Signore che anche oggi possiamo essere qui alla Sua presenza e fedeli a Lui. Perché chi rimane fedele fino alla fine sarà salvato. È una grazia del Signore che tiene il nostro sguardo in alto, ci dà la vita, possiamo udire e parlare. Tutte le cose che abbiamo procedono dalla Sua mano e dalla Sua bontà. E mentre durante il giorno noi continuiamo a vivere, a scorrere le nostre giornate, a volte ci scordiamo. Quanto il Signore veglia su di noi, ci protegge e ci ama. E la notte, ecco, prima di addormentarci o quando passiamo quei momenti, il nostro cuore deve lodarlo, esultarlo. Non ci scordiamo tutti i benefici che il Signore fa per l'anima nostra ogni giorno. Ecco quando Lui dice che con noi tutti i giorni, fino all'età presente, non era un modo di dire. Il Signore ha il suo sguardo sopra ognuno di noi. Non si stanca. Il suo spirito continua a bussare per illuminarci, per parlarci. Che la nostra lode sia una lode sincera. Non permettiamo alle circostanze della vita di togliere la lode, la gloria che spettano al nostro Dio, il ringraziamento, l'adorazione che spettano a Lui tutti i giorni, tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Il Signore ci benedica. Il Signore ha il suo sguardo, il Signore ha il suo sguardo,